Venerdì 19 aprile nel ciclo per fare coppia parleremo di strategie di recupero, ci può dare qualche anticipazione? Sì, praticamente sarà una ripresa dell'argomento della volta scorsa che ha riguardato le crisi di coppia, che ha riguardato le sorprese di chi forse pensava tutto in azzurro e dopo si è trovato con qualche nuvola scura. Le strategie di recupero sono innanzitutto quelle di una ripresa di quei elementi di dialogo, di confronto, di tempo dedicato l'uno all'altra e viceversa, che sono praticamente le medicine vere di una convivenza, perché non è possibile immaginare cose straordinarie che subentrino poi di volta in volta a rimpiazzare quei sentimenti entusiastici di innamoramento che erano all'inizio. Poi il recupero vuol dire anche qualche volta riprendere in mano delle situazioni proprio molto danneggiate, tradimenti o cose del genere. Io sono convinto dell'esperienza che ho di coppie, che sono state tantissime, che ho incontrato nella mia vita, che è possibile anche vedere di perdonare, di mettere forse un po' a più a posto le situazioni, da cui è nato anche qualche volta l'inconveniente, anche talora grave, da cui si può riemergere. Lei ha preso parte per decenni come giudice al Tribunale della Sacra Rota, il tribunale che si occupa delle cause di nullità matrimoniale. In base alla sua esperienza, quali sono le cause che portano molte coppie a lasciarsi? Io penso innanzitutto che le coppie rischiano di essere fatte da due persone che non si conoscono. Pare strano, possono durare certe volte, come ho visto, per centinaia di cause matrimoniali e penso migliaia di casi, cioè extra tribunale, in cui ho incontrato l'una o l'altra persona delle coppie o anche la coppia insieme. Ho l'impressione che veramente si passano molti anni di cosiddetto fidanzamento, oppure lo chiamano in un'altra maniera, non lo so più, senza dire nulla di se stessi, senza rivelarsi fino in fondo. Probabilmente anche presi da una piacevole compagnia che subentra a un'analisi, ad un lavoro di coppia, ad un confronto, ad un'approfondita amicizia, a una sincerità reciproca. Io credo che queste siano le cause per cui non regge una coppia, infatti io sono quasi, anzi mi ero convinto anche con me e altri colleghi, che quasi sempre quando è partito bene un amore può durare tutta una vita, se però viene coltivato, se non ci si ferma lì in apnea, se non si è così ormai soddisfatti di quel piacere, come ripeto, quella soddisfazione oppure quella assuefazione che a un certo punto c'è. Il recupero in fondo è una parola che vuol dire riprendere anche dalle cose negative tutto ciò che è positivo, dalle cose negative si impara, dalle cose negative ci si mette alla prova, dalle cose negative si mettono in altre energie che non si credevano di avere, quindi sotto questo profilo non dovrebbe essere mai detta la parola fine a una vita di coppia senza avere semmai dei rilanci che possono e che dovrebbero caratterizzare la vita molto più di quello che vedo.